La pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante la trasmissione sulla web tv e sul canale satellitare della Camera dei Deputati. L'oderna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione dal remoto dei deputati secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento. L'ordine del giorno reca l'audizione informale del segretario generale dell'Istituto latino-americano, Ministra potenziaria Antonella Cavallari, sull'attività dell'IILA, anche in riferimento agli esiti della decima conferenza Italia-America Latina e Caraibi. Anche a nome dei colleghi del Presidente Fassino e del Vicepresidente Cirielli saluto e ringrazio per la disponibilità a prendere parte ai nostri lavori la Ministra Cavallari, che è accompagnata dal Dottor Gianandrea Rossi, direttore esecutivo dell'IILA. Considerato il tempo limitato a disposizione, mi limito a segnalare che in esito la decima conferenza Italia-America Latina e Caraibi, svoltaci il 25-26 ottobre 2021, è stata approvata una dichiarazione finale nella quale, tra le altre cose, si riafferma la natura speciale del rapporto di amicizia e cooperazione tra l'Italia e i Paesi della Regione, fondato su solidi legami storico-culturali, politici ed economici, sull'integrazione delle rispettive collettività, nonché sul patrimonio di valori condivisi, di pace, solidarietà, democrazia, Stato di diritto, giustizia, diritti umani e multilateralismo. Si riconosce che la solidarietà e cooperazione internazionale, così come l'accesso ampio ed equo ai vaccini contro il Covid-19, che devono diventare un bene pubblico globale, rappresentano l'unico modo per superare la pandemia in maniera sostenibile ed inclusivo. Si riconosce la importanza di rafforzare la cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Italia e la Regione. Si conferma l'impegno comune nel perseguire uno sviluppo equo, inclusivo e sostenibile che miri in particolare alla riduzione della povertà e delle disiguaglianze in tutte le sue forme. Si riconosce il consolidamento dell'Organizzazione Internazionale Italia, Italo-Latino-Americana, quale foro privilegiato di dialogo intergovernativo che si aggiunge al rapporto che i singoli Paesi membri intrattengono col Governo italiano. Si sancisce l'impegno dell'Italia a favore di una sempre più concreta attenzione dell'Unione Europea verso l'America Latina e dei Caraibi, anche attraverso la Team Europe Initiative. Si conviene sulla prosecuzione nel prossimo biennio del programma Falcone-Borsellino nei settori di contrasto alla corruzione della criminalità organizzata transnazionale, finalizzato al rafforzamento della cultura e della legalità dello Stato di diritto e curato dal Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale in collaborazione con l'IRA. Ricordo altresì che la decima conferenza a livello intermonativo è stata preceduta il 22 ottobre del terzo forum interparlamentare Italia, America Latina e Caraibi, svoltosi presso la Camera dei Deputati ed incentrato sul tema Italia, Europa, America Latina e Caraibi, tra emergenze globali e processi di integrazione regionale, il ruolo dei Parlamenti. Anche in esito alla Unione interparlamentare è stata approvata una dichiarazione che riprende in larga misura gli impegni concordati a livello governativo, ribadendo che la diplomazia parlamentare rappresenta una leva preziosa e irrinunciabile delle relazioni internazionali, dal momento che contribuisce alla costruzione di relazioni di fiducia e di reciproca conoscenza tra i popoli, condizione necessaria per affrontare le sfide geopolitiche del nostro tempo. Fatta questa breve premessa, do ora la parola alla Ministra Cavallari affinché svolga il suo intervento e la ringrazio di cuore. Grazie Presidente, sono io che ringrazio per questa preziosa opportunità per condividere un po' quello che è il programma di lavoro, l'agenda dell'ILA. Ringrazio il Presidente Fassino e il Vice Presidente Cirelli per essere qui e tutti gli onorevoli deputati che ci seguono online. L'ILA, come sapete, è nata nel 1966 per ispirazione dell'allora Ministro degli Esteri Fanfani. Ci tengo a ricordare che è stata approvata all'unanimità in Parlamento, anche dall'allora opposizione. Questo è stato un segnale molto importante ed è un segnale che caratterizza ancora oggi la vita della nostra organizzazione. Andiamo al di là delle dinamiche, delle logiche, a volte di contrapposizione. Quindi è stata una scelta strategica e lungimirante di politica estera e consente di avere a Roma uno spazio di dialogo permanente, non uno spazio estemporaneo, una volta sì, una volta no, ma uno spazio duraturo di dialogo tra i 20 Paesi latinoamericani, attraverso naturalmente i rispettivi ambasciatori e il Governo italiano. Quindi in tutti questi decenni ha rappresentato un valore aggiunto o indiscusso della politica estera italiana, come lei ricordava giustamente, Presidente, anche attraverso lo strumento delle conferenze, su cui poi tornerò. Però è anche importante sottolineare il fatto che con l'ILA si dispone di uno spazio di dialogo intraregionale, cioè tra i Paesi fra di loro. E questo è importante in un momento come quello attuale, in cui c'è una forte polarizzazione nella Regione. E non ci sono tante occasioni di incontro fra tutti i Paesi. Ci sono delle discussioni, come voi sapete, per esempio in sede OSA, l'Organizzazione degli Stati americani, piuttosto che nell'ambito della SELAC. Se c'è un Paese non ci va l'altro. A l'ILA sono tutti presenti, lavorano tutti insieme e questo, oltre al dialogo con l'Italia, è un valore in sé, io credo. Quindi ancora oggi l'ILA, dopo più di 50 anni, continua ad essere uno strumento utile per l'Italia. E mantiene vivo questo dialogo e ci consente di essere presenti nella Regione, anche quando le priorità politiche del Governo sono altre, magari sono dirette ad altre zone, ci sono delle emergenze altrove. Però grazie alla presenza dell'ILA si mantiene questa continuità di rapporto, che è molto importante. Inoltre l'ILA consente al sistema Italia, nel suo complesso, di internazionalizzarsi, per così dire, di condividere le proprie migliori pratiche, non solo a livello di istituzioni pubbliche, ma anche a livello di università, a livello di imprese, a livello di società civile. Noi eseguiamo, come poi avrò modo di illustrare, vari progetti di cooperazione. Che significa? In questi progetti di cooperazione l'ILA coinvolge le migliori professionalità italiane, professionalità nel mondo delle istituzioni, delle imprese, dell'università, delle ONG. Quindi noi portiamo in America Latina il meglio dell'Italia e siamo presenti in questo modo, come Italia in America Latina. E poi abbiamo anche la possibilità, che non è da poco, di rafforzare il legame degli ambasciatori latinoamericani qui con le istituzioni italiane. Posso? Per esempio, noi disponiamo, come sapete, del nostro organo principale, che è il Consiglio dei Delegati, composto dai venti ambasciatori. Ecco, questo Consiglio spesso riceve come ospiti personalità italiane. Anzi, a questo proposito mi farebbe piacere e sarebbe un grandissimo onore poter avere la vostra presenza per incontrare i venti paesi latinoamericani. Di recente, per esempio, l'ambasciatore Massolo è venuto al Consiglio ILA per illustrare ai paesi latinoamericani le ragioni della candidatura di Roma 2030. Quindi in una riunione ha avuto accesso ai venti paesi e questo è indubbiamente anche un altro vantaggio, questa interlocuzione diretta. Poi c'è la dimensione europea, alla quale anche accennava il Presidente. Noi abbiamo un accordo con il servizio esterno, con il SEAE, siamo ente delegato di cooperazione europea, siamo anche osservatori al Foro USELAC e consentiamo, attraverso la nostra costante presenza nei programmi europei, di rafforzare la presenza italiana nell'attuazione della cooperazione biregionale Europa-America Latina. Altrimenti sarebbero protagonisti altri paesi, mi riferisco alla Spagna, ma ultimamente anche alla Francia e alla Germania. L'Italia è sempre presente. Facciamo parte di quasi tutti i principali programmi di cooperazione europea nella Regione. E quindi questa è una presenza importante anche per la pubblica amministrazione italiana. E qui mi piace ricordare il programma Falcone-Borsellino, a cui faceva riferimento il Presidente. Il 23, a margine delle celebrazioni per i giudici Falcone-Borsellino, abbiamo avuto un evento molto importante al quale hanno partecipato i ministri Di Maio, Cartabia, Lamorgese, i massimi esponenti delle forze dell'ordine. Abbiamo avuto la partecipazione della Ministra di Giustizia del Paraguay, recentemente colpita dalla scomparsa dall'assassinio del Procuratore generale. Molti altri sono intervenuti anche in collegamento, il Presidente della Repubblica dell'Equador, eccetera. E quello è stato un momento in cui abbiamo toccato con mano l'importanza, l'aspetto proprio di condivisione di norme, di pratiche, di formazione che consentono di contrastare il crimine organizzato. La pandemia prima, la guerra oggi, ci ricordano anche l'importanza del multilateralismo, inteso come un sistema contrapposto al nazionalismo, allo Stato nazionale. Oggi ILA è un piccolo ma efficace strumento multilaterale, che ci consente, come dicevo prima, di collaborare con un'area del mondo dove possiamo trovare non solo delle risorse strategiche, che ci sono e sono tantissime, ma anche pace e valori condivisi. Quindi io credo che l'Italia possa avvalersi di questa organizzazione anche perché questo le consente di giocare in uno scacchiere del pianeta che non è emergenziale, proprio perché è un continente di pace, eccetera, ma è comunque di prioritario interesse per il nostro sistema economico, le nostre imprese. Ci sono interessi enormi in America Latina che spesso si danno per scontati o magari non si conoscono neanche, ma insomma basta pensare agli investimenti dell'Enel, dell'Eni, sono miliardi e quindi ci sono degli interessi costanti al di là dell'emergenza. Questo è importante ricordarlo. E poi adesso con purtroppo l'attuale situazione di conflitto in Ucraina, quindi con tutti i problemi connessi di necessità di diversificare gli approvvigionamenti energetici, alimentari, un continente ricco di queste due risorse, di energia e di risorse alimentari, è un partner al quale bisogna guardare con attenzione. È un partner che non merita una presenza estemporanea, come dicevo prima, ma una continuità di rapporti. Ed è un orgoglio per noi dire che lì questa continuità di rapporti la coltiva da 50 anni e più. Quindi è uno strumento che si sta modernizzando, si sta adeguando ai tempi, si sta potenziando grazie al supporto del governo, del Parlamento e lo fa in una maniera che pone a disposizione del Paese. Quindi noi veramente, io sono a disposizione dell'Italia e mi auguro che approfitti di questo strumento nella migliore maniera possibile. Abbiamo garantito questa continuità, questo è importante, e come? Adeguandoci ai tempi e consolidando un'agenda che non è divisiva, è un'agenda propositiva che mira a favorire una ripresa economica sostenibile sotto tutti e tre i profili della sostenibilità economica, ambientale e sociale. Sono tre aspetti importanti, quindi abbiamo un ventaglio di progetti enorme che, se ho tempo, posso anche approfondire. Li realizziamo con i fondi della cooperazione italiana, ma anche della cooperazione europea, perché, come dicevo, siamo ente delegato della cooperazione europea. Quindi i progetti, per essere più sintetica, che noi sviluppiamo sostengono la transizione verde e circolarità delle economie, la coesione sociale attraverso l'aiuto alle fasce più vulnerabili, la promozione dello Stato di diritto, il sostegno alle imprese, la tutela del patrimonio culturale e molto altro. È importante ricordare che si tratta di iniziative che rispondono puntualmente ed efficacemente agli impregni presi con la dichiarazione finale della conferenza di ottobre alla quale faceva cenno. Tutti quei punti in cui lo Stato italiano si impegna a fare determinate cose sono rispettati. Questo è un punto anche molto importante, perché sottoscrivere una dichiarazione e firmare un pezzo di carta è bello, è facile pure, ma non serve. Non serve se non seguono dei fatti. Ecco, Lila consente nel suo piccolo di dare attuazione agli impegni presi e quindi offre credibilità, perché la credibilità è fare le cose che uno si impegna a fare. In questo senso Lila collabora, oltre che con la parte organizzativa, con la parte sostanziale di attuazione degli impegni nel contesto delle conferenze, che sono uno strumento di politica estera insostituibile. Io direi che è importante anche evidenziare il nostro metodo di lavoro, perché riflette oggi, ancor più che nel passato, il concetto di co-ownership dell'organizzazione. Questo concetto ci ha messo decenni per essere interiorizzato dal sistema internazionale. Noi lo applichiamo da parecchi anni, ma in questi ultimi anni molto di più. Intendo dire che i Paesi partecipano alle decisioni, al processo decisionale, condividono, integrano. Io presento un programma, che è una proposta, un programma di lavoro annuale. Lo discutiamo nel Consiglio dei Delegati. Se i Paesi hanno osservazioni, con integrazioni, richieste di modifica, si procede in tal senso. Il programma io lo elaboro sulla base di quelle che conosco essere le priorità dei governi. Prima di farlo, indago che cosa serve, cosa vi è utile. Poi propongo e poi sono sempre disponibile all'ascolto e all'integrazione di questo programma di lavoro. Insieme si dà attuazione agli impegni presi. Ecco, è un metodo di lavoro che sta rendendo molto, perché i Paesi si sentono coinvolti e si utilizzano le risorse messe a disposizione dalla cooperazione italiana o dalla cooperazione europea nella maniera più efficace e condivisa possibile. Ora io non so, non vorrei rubarvi troppo tempo. Potrei darvi delle indicazioni puntuali sui programmi di cooperazione, ma posso anche lasciarvi direttamente un appunto in modo che abbiate un'idea più precisa. Vi ringrazio tantissimo. Siamo noi che ringraziamo lei, anzi sarà molto utile appunto poi avere a disposizione la declinazione dettagliata dell'impegno e del lavoro e dei progetti che state portando avanti. Apriamo il dibattito per le domande, do la parola ai colleghi e quindi c'è innanzitutto il Vicepresidente Cirielli che poi ci deve lasciare. Sì, mi scuso anche il Presidente Fassino se intervengo prima, ma devo appunto partecipare al nostro Consiglio di Amministrazione che si chiama Collegio dei Questori. Volevo ringraziare il Ministro Presidenziale Cavallari non soltanto per la relazione, ma anche per l'attività che svolge l'Ila, che per noi è un importante strumento di politica estera che anzi andrebbe rafforzato per le ragioni che ha detto, qualcosa che dirò rapidamente, insomma richiamerò. Così come ritengo che sia stato un successo la decima conferenza dell'Associazione tra Italia, America Latina e Caraibi che si è tenuta ad ottobre. Volevo insomma riconfermare come per il mio partito tutto il mondo è importante, ci mancherebbe, le relazioni internazionali sono fondamentali perché crediamo fortemente nel multilateralismo e ovviamente però la presenza di numerosi connazionali e tantissimi abitanti di quelle aree di origine italiana per noi rappresenta da un lato un obbligo, un dovere morale di assistenza e di vicinanza, da un'altra come le ha segnalato una grande opportunità, sia perché è un mercato importante di consumo che noi abbiamo la necessità di far crescere proprio per implementare il commercio mondiale e in particolare il nostro perché crediamo nei principi di distribuzione delle ricchezze e di prosperità delle nazioni come strumento di pace e allo stesso tempo vogliamo rivendicare un rapporto privilegiato a questo proposito credo che bisognerà fare qualcosa di più ancora soprattutto per la lingua italiana in quei paesi e per garantire facilitazioni ulteriori non solo per coloro che hanno la cittadinanza, per fare in modo che coloro che hanno diritto la chiedono ma anche per favorire l'immigrazione, soprattutto l'immigrazione in Italia, soprattutto per quelle persone che vivono in paesi particolarmente in difficoltà per condizioni economiche di povertà ma anche per condizioni sociali se pensiamo alla crisi drammatica del Venezuela. Chiaramente il multilaterismo è importantissimo per contrastare la cultura bipolare che purtroppo sta riemergendo nel mondo che è foriera di guerre e di prepotenze e chiaramente anche contrastare l'isolazionismo dal trono dell'Italia, una grande nazione del potere economico e oltre a crederci a grande convenienza all'idea che le cose a livello internazionale possano essere gestite in maniera multilaterale, anche perché crediamo che il modo migliore per contrastare l'illegalità internazionale e le prepotenze di coloro che pensano di essere più forti in un mondo sparpagliato, in un mondo unito cose come quelle che sono accadute in questi giorni all'Ucraina non dovrebbero accadere e non accadrebbero se fossimo ancora più uniti. Con questo le ringrazio. Lei è il Presidente, vi auguro buon proseguimento e saluto ancora la presenza dei colleghi. Buon lavoro. Presidente Fassino. Sì, tanto io ringrazio il Segretario Generale del Lila per l'illustrazione che ci ha fatto e soprattutto per il lavoro costante e continuo che Lila assicura e possiamo dire che Lila è una piccola ONU italo-latinoamericana per la composizione che comprende e coinvolge tutti i paesi del continente, per il ruolo istituzionale che ha, per i meccanismi di lavoro e di decisione. È un unicum nel panorama delle istituzioni internazionali, quindi credo che noi abbiamo un interesse a valorizzarlo e non so fino a che punto c'è nella pubblicistica la consapevolezza di quanto questo strumento sia prezioso. Quindi c'è un problema anche di maggiore valorizzazione di questo strumento. Detto questo, è chiaro che per noi l'America Latina è un continente strategico in sé e in particolare è un pane per il nostro Paese da ogni punto di vista essenziale. Io ricordo spesso, qualcuno me l'ha già sentito dire, la famosa battuta di Einaudi, 1911, nel pieno dell'avventura della guerra italo-turca che ci portò, ahimè, a conquistare la Libia. Dico, ahimè, viste tutti gli esiti. Einaudi scriveva, non si capisce perché siamo andati a cercare un impero in Africa quando bastava guardare oltre Atlantico per scoprire che ce l'avevamo già. E si riferiva ai giganteschi flussi migratori che dal 1850 circa fino agli anni 60 ancora del Novecento hanno caratterizzato le dinamiche demografiche del continente e le relazioni demografiche tra Italia e America Latina, per cui noi in Brasile, in Argentina, in Venezuela, in Uruguay, in Cile, in Paraguay, abbiamo consistenti comunità italiane che sono parte essenziale ormai della vita di quei Paesi e hanno contribuito alla crescita di quei Paesi, anche venendo via via a ricoprire incarichi di grandissimo rilievo sia politici che economici e sociali. Il precedente Presidente del Brasile, Macri, era l'ultimo erede di una famiglia italiana emigrata in Argentina. Il ministro Cavallo, che fu il ministro famoso dell'economia, della dollarizzazione della moneta argentina, era italiano e via di questo. La prima moglie di Lula aveva origini italiane e via di questo passo. Insomma, abbiamo bisogno di dircelo tra di noi. Allora, se è così, il problema è come si costruisce una relazione sempre più intensa. Sapendo che ovviamente operano verso il continente anche altri Paesi, ovviamente la Spagna per ragioni politiche, storiche, demografiche, linguistiche, ha un legame particolare, il Portogallo ce l'ha con il Brasile, però, come dire, questo non preclude né inibisce al nostro Paese di avere una relazione molto forte, considerato anche gli insediamenti economici importanti che noi abbiamo. Enel, dopo l'acquisizione di Endesa, è il principale provider energetico del continente, per dirne una. Il sistema bancario italiano, dopo tante titubanze, finalmente ha capito che deve essere presente lì. Grandi imprese, dalla Ferrero, tante altre. E anche cose che il Paese conosce meno. Per esempio, si conosce meno che il nostro primo par in America Latina non è né l'Argentina né il Brasile né il Messico, con un interscambio commerciale che è superiore alla somma dell'interscambio di Brasile e Argentina. Cioè, no? Una cosa enorme. Quindi, da questo punto di vista, noi abbiamo degli interessi giganteschi che abbiamo interesse a coltivare. Lo stiamo facendo, le conferenze biennali Italia-America Latina sono lo strumento principale, ma non l'unico, naturalmente. E io penso che noi dobbiamo porci l'obiettivo di un impulso forte anche però in sede europea. Perché l'Unione Europea ha, con l'America Latina, se non ricordo male, 27 o 29, non ricordo il numero. Accordi di varia natura. Accordi di libero scambio, accordi di cooperazione economica, accordi di tariffe preferenziali. Insomma, vari accordi per cui sostanzialmente l'Unione Europea, con quasi tutto il continente, ha già stabilito delle relazioni. E poi c'è il grande accordo per la zona di libero scambio tra Unione Europea e Mercosul, che ha le complessità e le difficoltà che sappiamo, anche in Europa. Non tutti i Paesi europei sostengono questa prospettiva, anche grandi Paesi. Quindi dobbiamo sapere che è un percorso non irenico e non semplice. Noi abbiamo interesse che questo invece vada avanti. Quindi noi abbiamo interesse non solo allo sviluppo delle relazioni bilaterali, ma anche a essere, come dire, avanguardia di una multilateralità di relazione tra l'Unione Europea e l'America Latina. Su questo piano io penso che abbiamo bisogno di intensificare anche l'azione e i rapporti parlamentari. Tra l'altro l'America Latina, a differenza di altri continenti, per ragioni che sono evidenti, ha sistemi politici assolutamente affini ai sistemi politici europei. Perfino nelle famiglie politiche. Per anni e anni il principale bacino di partiti democratico cristiani era in America Latina. La sinistra ha avuto sempre storicamente rapporti con la sinistra latinoamericana e via di questo passo. Quindi anche sul piano parlamentare. L'altro giorno era qui la delegazione cilena che abbiamo ricevuto e credo che dobbiamo dare impulso. Il Presidente Lupi ha fatto riferimento al fatto che a latere della conferenza intergovernativa abbiamo svolto il forum interparlamentare. Io credo che non dobbiamo aspettare altri due anni. Quindi credo che nel corso del 2022, a questo punto in autunno, si potrebbe promuovere un forum interparlamentare che rinnovi i nostri rapporti con questi paesi da un lato. E poi ovviamente con una gerarchia di selezione a cui ci può contribuire utilmente il Consiglio e la Consulenza dell'Ila, anche rafforzare i rapporti parlamentari bilaterali con una serie di paesi. Infine io colgo volentieri l'invito che ha avanzato il Ministro Cavallari di visitare l'Ila, di avere un incontro con tutti il comitato direttivo, con me ovviamente ci sarà anche il Presidente Lupi per avere un'occasione di discussione comune diciamo con tutti. Grazie. Ecco no, una domanda è questa. Lei ci ha illustrato tutta l'attività, perfetto. A breve quali sono i principali obiettivi che vi ponete, a breve insomma, giusto per tenerne conto anche nell'attività nostra. Vediamo se ci sono ulteriori colleghi così fa. Bene, direi che diamo la possibilità appunto di fare una sintesi e poi così programmeremo i nostri lavori. Io cito soltanto la prima delle attività che abbiamo in programma che è a fine giugno ed è una cosa molto innovativa. È il primo incontro fra le agenzie spaziali italiana, europea e tutte le agenzie spaziali latinoamericane, i paesi che ce l'hanno e quelli che vorrebbero averla e stanno lavorando in questo senso. Questo incontro che si svolgerà a fine giugno dal 20 al 24 giugno mi farebbe piacere anche invitarvi alla giornata di apertura che si svolgerà alla Farnesina. Poi i giorni successivi ci sono delle visite eccetera. Però l'apertura il 20 di giugno vi faremo senz'altro avere l'invito. È importante e fa seguito ad un'attività che abbiamo già intrapreso nel corso dell'anno di assistenza a questi paesi attraverso una esperta di diritto spaziale accompagnandoli verso la costituzione di un'agenzia spaziale latinoamericana con la nostra consulenza dell'ASI con cui abbiamo un rapporto molto stretto. È un'attività importantissima per il monitoraggio di tutte le attività che compriamo. Quindi questo è il primo. Gli altri poi ve li racconto quando... No, io ve lo chiedo per questo e colgo l'occasione. Perché ciascuna di queste occasioni è anche l'occasione per una presenza o un'iniziativa parlamentare. Lo spazio. Lo spazio noi abbiamo dedicato grande attenzione qui sia in relazione al trattato del Quirinale perché c'è tutta la cooperazione italo-francese in questo campo e non soltanto. E c'è una parlamentare nostra in particolare che è l'Onorevole Di Stasio che è molto attenta e ha svolto anche qui delle relazioni su questo tema. Quindi se ogni iniziativa ci viene segnalata può essere l'occasione di una presenza o anche di un'iniziativa di audizione eccetera eccetera in commissione. Ecco questo. Sì, sì, no, stanno partendo gli inviti e vi avrei comunque invitato. Però mi fa piacere sapere che è la cosa di vostro interesse e quindi conto sulla partecipazione. grazie. Prego. Io chiederei cosa si può fare di più per favorire come Ila il sistema Paese. Quali sono le iniziative? Ci ha fatto l'esempio adesso dell'aerospazio. Ricordava il presidente Fassino del trattato del Quirinale approvato ieri. Noi con il trattato del Quirinale ci impegniamo anche a collaborare con la Francia e riguarda proprio l'America Latina sulla base di Curu in Guiana francese. Ecco, quindi ha un interesse per l'Italia, questo volevo dire. Capire perché ci ha detto del multilateralismo, è un appello che faccio, dovendo collaborare con magari i presidenti anche di origine italiana come Bolsonaro, se ci si pone contro il nazionalismo, contro il sovranismo sarà un dialogo molto più difficile. Mentre è importante, ed ha sottolineato sempre il presidente Fassino, anche rafforzare i rapporti bilaterali e questo interesse del nostro Paese. Grazie. L'altro tema che lei ha sottolineato, che secondo me appunto dobbiamo sia tra governi che parlamenti sviluppare, è il tema che sta emergendo in maniera drammatica da una parte dell'energia e delle materie prime e dall'altro delle risorse alimentari. E qui ovviamente credo che lo spazio necessario e fondamentale di una collaborazione Italia-Europa-America Latina possa e debba essere sviluppato. Quindi come possiamo lavorare in questa direzione? Sì, intanto rispondendo alla domanda come potenziare la presenza del sistema Italia, ho detto più o meno quali sono gli strumenti a nostra disposizione e quindi inserire gli interlocutori italiani all'interno dei progetti di cooperazione, ma anche favorire il dialogo e la presenza delle imprese italiane attraverso un contatto diretto e fluido con le istituzioni di ogni singolo Paese. Ovviamente lo fanno tramite le ambasciate d'Italia, però a volte quando si tratta di inquadrare il Paese e la Regione nel suo complesso, avere un dialogo con più autorità, ricorrono a noi perché abbiamo un legame diretto con tutti i Paesi allo stesso tempo. C'è uno strumento importante che vorrei menzionare che è quello del foro Pimes, foro delle piccole e medie imprese. Abbiamo fatto adesso una riunione di questo foro, la settima edizione a Medellin in Colombia nel mese di marzo. È stata un'edizione particolarmente di successo, hanno partecipato circa 200 imprenditori fra italiani e latinoamericani. Le massime autorità colombiane ne sono state presenti. Abbiamo avuto un numero enorme, non solo di B2B e B2G, ma anche proprio di contratti, accordi, cose concrete che si sono verificate, perché abbiamo identificato delle filiere di interesse speciale, sia per l'Italia che per i Paesi. Tessile, moda, legno, insomma, delle attività concrete che hanno consentito di avere dei risultati. Ecco, questo noi lo facciamo ogni anno. Ogni anno cresce, ogni anno si approfondisce e l'anno prossimo abbiamo già in programma un'edizione di questo foro Pimes, sdoppiato una parte industria a Bergamo e una parte agroalimentare, che è l'altro settore che avevamo identificato, all'interno della fiera McFruit, in modo da dare all'America Latina il massimo rilievo possibile e favorire i contatti con il sistema Italia in questi due ambiti strategici, industria, industria soprattutto tessile, eccetera, e agroindustria. Quella, per esempio, è una indicazione concreta. Poi il fatto di essere un'organizzazione multilaterale non ci pone contro, ci mancherebbe altro, gli Stati nazionali. Noi collaboriamo perfettamente con ognuno di loro, come dicevo prima. Quindi assolutamente non è una logica di contrapposizione, di collaborazione, mettendoli però insieme. Questo è il valore aggiunto. Sulla parte energia vorrei sottolineare che abbiamo un accordo di collaborazione con Enel e quindi stiamo pensando a dei progetti specifici sulle città verdi. Stiamo lavorando da un anno e più su questo tema. Enel già fa degli investimenti enormi in molte città della Regione. Noi possiamo apportare la nostra specificità in termini soprattutto di assistenza tecnica e di formazione delle persone che operano all'interno di questi investimenti. Quindi c'è una sinergia molto forte, soprattutto con Enel. E la parte alimentare abbiamo accordi con FAO, IFAD, siamo in contatto anche con loro. spesso e volentieri ci chiedono. IFAD, per esempio, ci ha chiesto di eseguire dei progetti in Ecuador, per esempio, dove loro non avevano degli strumenti particolari. Noi facciamo dei programmi che si chiamano Agricoltura di precisione, che sono molto interessanti. E ci hanno chiesto di farli con finanziamenti loro, quindi senza intaccare i nostri fondi della cooperazione. Loro hanno detto noi abbiamo i fondi, voi però sapete fare questo tipo di progetti. Quindi facciamo questo tipo di assistenza. Grazie veramente. Dichiaro conclusa l'audizione in titolo ringraziando la Ministra Cavallari per il suo contributo ai nostri lavori. Certamente raccogliamo l'invito con il Presidente Fassino, poi programmeremo questo incontro con il vostro Consiglio. E altrettanto credo sia interessante, credo ne parleremo poi successivamente anche in Ufficio di Presidenza, con il Presidente e gli altri colleghi, di organizzare in autunno una prosecuzione del lavoro che avevamo già fatto parallelamente con un ulteriore forum interparlamentare. Grazie di cuore. Grazie mille.